Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, un figlio dopo l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi, Rosa Perrotta dopo il reality vuole un figlio dal fidanzato Pietro Tartaglione. Da quando Rosa Perrotta si è unita al cast dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, il fidanzato Pietro Tartaglione l'ha sempre sostenuta e difesa sui social. L'ex corteggiatore di uomini e donne, infatti, pubblica spesso sul suo profilo foto e video della sua ragazza, manifestando così la sua vicinanza a quest'ultima. Proprio Pietro Tartaglione, nelle ultime ore, ha condiviso con i suoi followers alcune frasi dette da Rosa Perrotta sull'Isola, con cui lo stesso pare si sia trovato completamente d'accordo. Quest'ultima, in particolare, avrebbe confidato a Jonathan di volere un figlio dal suo fidanzato. Il suo desiderio di maternità è inoltre così forte da spingerla a pensare di farlo proprio subito dopo il suo ritorno dall'Isola dei Famosi. Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi, quando esco da qui sono mamma. Dietro Tartaglione ha condiviso su Instagram la conversazione avvenuta tra Rosa Perrotta e Jonathan. Veramente per quando esco da qui sono mamma avrebbe detto l'atronista al suo compagno di avventura. Sono arrivata a 30 anni, che ho ciò che voglio avrebbe poi aggiunto la stessa sull'Isola. Un'affermazione importante che, tuttavia, non ha per niente intimorito il suo fidanzato. Quest'ultimo di fatti sui social si è mostrato entusiasta della cosa. Dopo aver reso note le parole esatte dette dalla sua fidanzata, infatti, Pietro Tartaglione ha postato un cuore, confermando quindi le sue intenzioni al riguardo. Pietro Tartaglione contro la mamma di Chiara Nasti, lo scontro. Come già accennato Pietro Tartaglione non si è mai tirato indietro quando si è trattato di prendere le difese della sua fidanzata. Il suo supporto a Rosa Perrotta non è mai mancato, tant'è che il napoletano qualche settimana fa addirittura ha avuto un ascambio acceso di opinioni con la mamma di Chiara Nasti. Purtroppo non sono abituato a confrontarmi con signore di 50 anni mamme di figli, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, non capisco tutta questa cattiveria gratuita aveva scritto l'ex corteggiatore. E allora io voglio anche capire che alla base di tutto questo ci sia un po' di invidia, giustamente perché comunque Rosa è ancora lì e la figlia invece di questa signora ha fatto scelte diverse. Grazie a tutti.